Vi ricordate il momento in cui avete pedalato per la prima volta senza rotelle? Un attimo prima eravate piccoli, con i genitori che vi correvano a fianco, e improvvisamente, appena vi lasciavano andare, eravate grandi e liberi. Ecco, questa è un'emozione che tutti dovrebbero provare. Invece, un bambino su cinque oggi nel mondo vive in zone di guerra, dove l'infanzia viene negata in tutti i suoi aspetti, quotidianamente e con violenza. Quest'anno Save the Children, nell'anniversario dei suoi cento anni, è partner del Giro d'Italia, in difesa dei minori, vittime dei conflitti. Il futuro di questi bambini è un traguardo che possiamo raggiungere soltanto insieme. Dona al 45533 per dare protezione, cure e istruzione ai bambini in Uganda, fuggiti dagli orrori della guerra. Aiutaci a rimettere in sella il loro futuro. A presto. Grazie a tutti.